Botta e risposta tra Regione e Comune di Alba Adriatica dopo le dichiarazioni fatte alcuni giorni fa dal consigliere regionale capolupo della Lega Pietro Qualesimale sulla questione relativa ai ritardi a suo dire da parte del Comune Albense nella presentazione del progetto definitivo per dare il via agli interventi strutturali come scogliere e pennelli e non strutturali di ripascimento sulla costa nord del Comune Costiero. Sulla questione è intervenuto l'assessore di riferimento Nicolino Colonnelli che ha voluto replicare su quanto dichiarato dal consigliere regionale. Forse il signor Qualesimale non si rende conto della portata delle sue dichiarazioni e dello sgomento che crea all'interno di una categoria di operatori turistici già duramente provati. Io dico che quando si parla bisogna parlare avendo in mano i documenti. Noi abbiamo risposto con i documenti e con i fatti. Quindi basta. Noi i nostri interlocutori a livello regionale li abbiamo. Sono i nostri interlocutori di Vallata, Umberto De Annundis, Dino Pepe e Emiliano Di Matteo. Se il signor Qualesimale tiene molto al nostro territorio, ad Alba Triatica, si faccia promotore immediatamente di un incontro con il Presidente della Giunta regionale perché noi, Alba, Tortoreto, Martinsicuro e Giulianova, abbiamo bisogno di risposte al più presto. Quindi si faccia carico di questo impegno, visto che sono venuti tutti quanti subito dopo la mareggiata, si faccia carico di questo impegno e si faccia promotore di un incontro al più presto con noi e con gli operatori, ad Alba Triatica. Di questo abbiamo bisogno, di chiacchiere non abbiamo bisogno. Dal punto di vista progettuale invece il Comune di Alba è già pronto? Era tutto pronto, l'abbiamo già detto. Non avevamo consegnato ancora il progetto per il semplice motivo che aspettavamo, i risultati delle analisi granulometriche senza le quali non avremmo potuto sicuramente presentare il progetto. Una volta avuto il risultato abbiamo presentato il progetto che era pronto da un pezzo e i dirigenti regionali lo sapevano. Quindi prima di rilasciare delle dichiarazioni vada negli uffici, chieda conto di quello che sta accadendo e poi parli eventualmente.